Buongiorno a tutti i lettori di Bergamo News, stamattina abbiamo come ospite Chiara Traversi, direttrice di International School, è un piacere ospitarla. Grazie mille, grazie a voi. E con lei facciamo il punto di questi dieci anni di apertura della sua scuola. A dieci anni di distanza le chiedo, lei è partita con un sogno, a che punto siete arrivati, quali sono i nuovi orizzonti insomma che la scuola si prefigge di conseguenza anche del suo operato, del suo lavoro e se avete avuto modo di celebrare appunto questo importante traguardo e se sì in che maniera? Ok, allora sicuramente è un sogno che si è realizzato, si sta realizzando. Io e Guia Ghidoli con la quale siamo partiti, siamo appunto partiti dieci anni fa, abbiamo aperto a settembre nell'annata scolastica 2011-2012 con 22 bambini, sei dipendenti e avevamo circa a disposizione 800 metri quadrati. Adesso siamo, a settembre saremo circa 360 studenti, 63 dipendenti e probabilmente saremo intorno ai 4.500 metri quadrati. Stiamo facendo l'ennesima espansione quest'anno e prevediamo di arrivare intorno ai 6.000 metri quadrati a brevissimo di superficie coperta per tutta quella esterna quindi sicuramente è stata una cavalcata dal punto di vista della crescita. Siamo partiti con i nostri bambini più grandi che erano quelli nati nel 2005 che sono appunto partiti in prima elementare e l'anno prossimo li diplomeremo perché arriveremo in tredicesimo grade. Quindi è sicuramente un sogno che si sta realizzando. Sono stati dieci anni ovviamente molto molto intensi con in mezzo anche il covid per cui ha maggior ragione ma siamo stati molto contenti, siamo stati felicissimi di poter celebrare finalmente in presenza nell'occasione del tradizionale International Day che facciamo il decennale. Abbiamo voluto festeggiarlo in maniera un pochino particolare perché appunto sia io che Guia siamo un pochino restie allergiche a fare delle autocelebrazioni e quindi abbiamo chiesto ai nostri studenti e a tutta la comunità di ragionare su quello che era il significato del numero 10. Quindi il 10 come numero, il 10 come 0 e 1 nel mondo dell'informatica, come linea e cerchio nel mondo delle forme dell'arte, il 10 come evoluzione, quindi come crescita, come storytelling eccetera eccetera e quindi è uscita una mostra che abbiamo appunto fatto a scuola e ne siamo stati molto molto contenti. Com'è cambiata la sua scuola da quando lei l'ha aperta, anzi da quando lei l'ha pensata ad oggi? Ma allora è sicuramente cambiata perché appunto la crescita è stata molto veloce, molto rapida e devo dire che il grandissimo orgoglio è quello di essere riusciti in soli dieci anni ad essere una AIB full continuum, cioè siamo una scuola autorizzata sui tre programmi dell'AIB, ce ne sono pochi al mondo che hanno appunto l'AIB full continuum, ce ne sono tantissime scuole autorizzate AIB, sono circa 8.000, 9.000 adesso in questo momento, però è davvero un traguardo eccezionale, questo lo devo sicuramente grazie al nostro team che ha lavorato in maniera veramente incomiabile per dieci anni e con secondo me dei grandissimi risultati. Diciamo che International School è sicuramente, oltre che un'offerta educativa e formativa particolare e quindi assolutamente di valore sul territorio bergamasco, rappresenta mai come oggi una finestra sul mondo che fa anche della multiculturalità uno diciamo dai suoi caratteri fondamentali. Assolutamente, infatti devo dire che l'orgoglio principale da Bergamasco quale sono è stato quello di aver portato una scuola internazionale a Bergamo e una scuola AIB a Bergamo, questo devo dire che è un valore per tutto il territorio nel senso che faccio conto che noi in questo momento abbiamo circa 40 nazionalità presenti e molto spesso le famiglie che si trasferiscono internazionali, che si trasferiscono a Bergamo lo fanno anche perché c'è una scuola AIB oppure non verrebbero a Bergamo se non ci fosse una scuola AIB e devo dirla tutta anche all'aeroporto, diciamo che sono due asset che per la scuola ha per una famiglia internazionale che si sposta sono assolutamente fondamentali. Un'altra delle delle caratteristiche dominanti insomma della della sua scuola è certamente la preparazione ad un futuro, ad un futuro importante, grazie al percorso che i ragazzi fanno all'interno di International School diciamo che si aprono poi le porte anche dei college e quindi delle università più rinomate nel mondo. Sicuramente nel senso che le famiglie, anche le famiglie, noi abbiamo anche tante famiglie italiane a scuola molto spesso si avvicinano a una scuola di questo tipo per l'inglese, molto spesso con una certa facilità poi capiscono che il vero valore non è solo questo, questo è un dato di fatto, è ovviamente un valore perché i nostri ragazzi sono a tutti gli effetti dei ragazzi bilingue, ma il valore è nel sistema educativo quindi nella modalità con la quale si fa scuola, quindi nel tipo di didattica che si fa e nelle prospettive che si aprono. Faccia conto che noi il percorso di orientamento universitario parte al primo anno della high school, in realtà per alcuni aspetti parte anche prima e accompagna i ragazzi attraverso university fair, attraverso programmi di esposizione diciamo a career profile di vario tipo e vario genere, ma faccia conto che più o meno come come scuola, come i nostri studenti, forse non ne avevo parlato prima, ma noi facciamo parte di un gruppo di scuole internazionali, quindi il gruppo in questo momento ha circa 80 scuole in giro per il mondo 65 mila studenti in tutto, i ragazzi delle nostre scuole al 90% sono in grado di entrare nella first choice university e tra queste ovviamente ci sono le università della Ivy League, ci sono università Russell Groups eccetera. Devo dire che senza un appoggio, un sostegno della scuola in grado di accompagnare i ragazzi non avremmo questi numeri, sono scuole che per un ragazzo italiano non sono inaccessibili, ma lo sono solo per chi è assolutamente top, invece nel nostro caso devo dire che praticamente tutti riescono a entrare nel loro first choice che è veramente un valore aggiunto. International School è una scuola che proietta i ragazzi nel futuro, ma che ha anche delle radici comunque ben ancorate sul territorio, però sicuramente al passo con i tempi, forse anche un passo avanti, lo dimostra anche il fatto che in pieno periodo di pandemia, quando tutto il resto del parco scolastico ha dovuto rincorrere insomma quella che era la didattica a distanza, voi eravate assolutamente già pronti e preparati. Questo è stato possibile, è verissimo, noi siamo stati forse chiusi un giorno, il secondo giorno post pandemia eravamo operativi dai bambini piccolissimi alla fine del percorso scolastico con una timetable full time, quindi i ragazzi sono stati in grado di fare lezione in maniera regolare fin da subito. Questo grazie a tutta l'innovazione che c'era già stata prima, cioè eravamo preparati, avevamo l'infrastruttura tecnologica pronta e questo modo di lavorare continua a esserci. Faccio conto che per esempio le nostre scuole partner che sono per esempio San Luis a Milano, International School di Milano, quindi scuole molto grandi, sono in questo momento delle scuole pilota sull'utilizzo di alcuni versi di intelligenza artificiale per fare una differenziazione molto puntuale sui ragazzi, sia per esempio sull'utilizzo del metaverso per avere per esempio la possibilità di fare degli esperimenti scientifici pericolosi in un ambiente evidentemente non pericoloso come quello del metaverso e stiamo costruendo il nostro ambiente metaverso per poter lavorare anche in congiunzione con gli studenti delle altre scuole. Quindi come dire, l'essere, la scuola è qualcosa che riesce a innovare, che non significa buttare via le tradizioni, noi abbiamo il nostro curriculum italiano che assolutamente ricalca quello della scuola italiana, i nostri ragazzi studiano Dante, i nostri ragazzi studiano Pirandello eccetera eccetera, quindi non significa buttare via ma significa saper scegliere quello che è di valore e magari lasciare andare qualcosa che non vuole più. Le chiedo, quanto è importante fare rete all'interno del sistema scolastico e in particolare nel vostro? È molto importante, devo dire che una delle scelte, dei motivi che ci hanno portato a scegliere di entrare nel grande gruppo Inspired è proprio quello di poter agevolare i meccanismi di rete. È fondamentale perché la scuola è importante che trovi modo di confrontarsi. Le faccio un esempio, quando magari i nostri ragazzi fanno dei test è fondamentale fare quello che per noi si chiama moderation. Moderation vuol dire prendere il test, darlo a un proprio collega, farlo leggere un altro collega ma anche a un collega di un'altra scuola. Significa che i nostri docenti hanno una linea aperta costante con i propri corrispettivi docenti delle stesse materie. E lo facciamo a tutti i livelli. Io venerdì prossimo sono a Firenze per incontrarci con tutti gli university counselor delle scuole internazionali italiane. Questo è davvero importante perché significa avere una curva di accelerazione e di miglioramento assolutamente fondamentale. Faccio un passo indietro e le chiedo anche questo. Attaccamento alle radici nel saper però anche guardare chiaramente oltre. Mai come in un momento storico come questo, che è sicuramente un momento difficile anche dal punto di vista del panorama internazionale, avvicinare le culture è fondamentale. Lei mi ha anche raccontato di esperienze in cui i ragazzi vengono avvicinati alle tradizioni di ciascuna cultura che portano a scuola. Assolutamente. Per esempio ci sono vari modi, lo si può fare a livello curricolare, per cui abbiamo per esempio delle unit che si chiama celebration, in cui i nostri ragazzi percorrono le festività, le celebrazioni di ogni singolo paese, per cui devo dire che per noi è sempre un momento per festeggiare, perché festeggiamo il divale indiano piuttosto che l'annuca ebreo, piuttosto che il capodanno cinese, eccetera. E questo penso sia una grande lezione che aiuta i ragazzi a rispettarsi, a capirsi, a comprendersi. Io sono sempre molto stupita quando si arriva a Natale e c'è sempre la discussione sul presepe o l'albero di Natale a scuola o meno. E mi sono sempre chiesta come mai non si fa quello che si fa nelle scuole internazionali da sempre, e cioè che si festeggia tutti. È tutto molto semplice. Chiuderei chiedendole, a dieci anni di distanza dall'apertura, come vede la sua scuola nei prossimi dieci anni? E qual è l'augurio che fa innanzitutto ai suoi ragazzi e poi anche a se stessa? Certo, ma l'augurio ai ragazzi è assolutamente sempre quello di trovare la propria strada. Noi lavoriamo alla fine perché i ragazzi possano imparare a scuola a faticare, a cadere, a fallire e rialzarsi. Questo è quello che gli vogliamo insegnare e insegnare ad avere passione, dedizione, rispetto di quello che stanno facendo. Quindi questo è assolutamente l'augurio di tutti e è un augurio che facciamo anche a noi stessi, di continuare a rinnovare la passione che abbiamo per il nostro lavoro. Ringraziamo la direttrice di International School che è stata con noi stamattina. Le auguriamo un buon lavoro e una buona giornata. E auguriamo una buona giornata anche a tutti i lettori di Bergamo News.